Ma vivi aspettando che vengano date delle risposte migliori e che si risolva nel miglior modo possibile. E' scosso Fredi Pacini, finito sulle montagne russe giudiziarie da quel 28 novembre 2018, quando esplose un colpo d'arma da fuoco che raggiunse Vitali Tognos, uccidendolo. Il ladro moldavo di 29 anni si era introdotto di notte nella sua rivendita di gomme a Monte San Savino. Il PM Roberto Rossi aveva chiesto l'archiviazione per quei fatti. La giustificazione era legittima difesa, richiesta respinta però dal giudice per le indagini preliminari, che rimandava alla procura una richiesta di supplemento di indagine. Era stata la sorella della vittima ad opporsi, ma la pubblica accusa ha riportato davanti al GUP Lombardo una nuova richiesta di archiviazione. Il signor Pacini non ha mai interpretato come un rigetto dell'archiviazione dal punto di vista negativo, ma semplicemente per cercare di verificare ulteriormente quella che era la sua versione, hanno avuto appunto un esito assolutamente positivo perché confermano che il Pacini ha detto la verità dall'inizio alla fine di questa vicenda. Il giudice si è riservato alla decisione che dovrebbe arrivare nel giro di 36-48 ore.